Torna ad Assisi, il cortile di Francesco, luogo di incontro tra credenti e non credenti, spazio aperto e di dialogo tra fedi e culture diverse. Il tema di quest'anno è il cammino, perché è proprio mettendosi in viaggio insieme che si aprono nuove strade e si fanno scoperte. Le giornate iniziano con i giovani e i giovanissimi per parlare con loro di web e social media e delle parole ostili che troppo spesso circolano in rete. Le parole ostili è un progetto di sensibilizzazione sull'utilizzo delle parole online e non solo online. È un progetto che ha visto nascere dieci principi, proprio per rendere la rete un luogo migliore dove vivere e dove stare. La digitalizzazione cambia tutto. Il modo di produrre e di consumare è la quarta rivoluzione tecnologica, ma che cambia davvero tante cose, compreso gli aspetti cognitivi. Noi tutti abbiamo una grande responsabilità di quali contenuti vanno in rete, quindi come si deve usare la rete e la rete poi è fatta attraverso gli strumenti. Quattro giornate intense al Sacro Convento Francescano, fatte di storie, testimonianze, dialoghi, arte e cultura, giornalismo e comunicazione, tenendo bene a mente l'obiettivo che è quello di costruire ponti, piuttosto che alzare muri, perché Assisi vuole essere sempre di più la città dell'incontro. 40 eventi, 120 relatori, tantissimi incontri, workshop, tre concerti, due grandi mostre. Tutto per dire è possibile camminare insieme. Assisi diventa la proposta tra le tante voci che emergono dal nostro paese per poter camminare insieme. Grazie.